E' una vigilia movimentata quella dell'Avellino che nella serata di ieri ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Daniele Mignanelli. In seguito ad uno scontro di gioco in potenza Avellino è stata diagnosticata una frattura composta del malleolo tibiale. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e successivamente inizierà il trattamento riabilitativo. Una nota che nascondeva però già un affare concluso, quello di Oliver Kragl, esterno mancino classe 1990 che si era praticamente già accordato con il Latina ma che la dirigenza bianco-verde ha strappato con un vero e proprio blitz notturno. Sei mesi di contratto più rinnovo automatico in caso di Serie B per il tedesco che dà ancora più qualità alle fasce dell'Avellino. Dotato di grande tiro, Kragl dovrà rimettersi in sesto. 21 gare l'anno scorso in Serie B con l'Ascoli prima di ritrovarsi senza squadra. Non sarà ruolabile contro la Juve Stabia da vedere contro il Catanzaro per un giocatore reduce da mesi di inattività. Braglia potrebbe confermare 3-4-1-2 contro le Vespe da valutare le condizioni di Di Gaudio mentre a centro campo potrebbe esserci turnover. Scalpitano Mastalli, Carriero e De Francesco mentre in avanti la coppia dovrebbe essere formata da Maniero e Murano.